A Pescara due giorni di pesca green con i campionati italiani drifting 2021. La manifestazione presentata oggi in comune si svolgerà al porto turistico dal 30 settembre, giornata inaugurale, al 2 ottobre. A promuoverla è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacue. L'organizzazione è curata dalla SD Dolphin Club Pescara con la collaborazione dell'Assonautica Pescara. La gara si svolgerà nello specchio d'acqua antistante il porto turistico Marina di Pescara e accoglierà più di 40 equipaggi giunti da ogni parte d'Italia. Aspetto fondamentale dei campionati. Sarà obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare. Il regolamento che gli equipaggi devono osservare è di fatti molto chiaro. Oltre a lasciare la preda viva in mare, vengono utilizzati ami senza ardiglioni per facilitare le operazioni di liberazione del pesce. Inoltre il tempo massimo di combattimento è di 30 minuti proprio per consentire la liberazione sicura. La gara si svolge in una prova unica divisa in due. La prima è in programma venerdì 1 ottobre, la seconda sabato 2 ottobre, salvo variazioni o annullamenti dipendenti da condizioni meteomarine. La durata massima di ogni prova è stabilita in 7 ore con partenza alle 8 e rotta di ritorno alle 15. Mare, mare, mare...